Perde la Roma, pareggia la Lazio, vince la Viola. Parliamo spesso, forse anche troppo, dei nostri tifosi. Vorrei parlare un attimo di quelli spagnoli. Tifosi del Betis, partiamo da quelli. Tifosi del Betis che hanno vandalizzato Piazza del Popolo, hanno fatto diventare una pattumiera. Andate a vedere le immagini, una pattumiera, Piazza del Popolo. Incivili, incivili, incivili. Veramente degli incivili. E mi auguravo davvero che stasera tornassero con le ossa rotte, calcisticamente parlando. Non mi abbasso di certo al loro livello. Invece no, invece arriva una sconfitta per la squadra di Murigno. Parliamo di questo, parliamo del pari della Lazio, che comunque riequilibra l'intera classifica del girone. E il rilancio della viola in Europa Conference League, una vittoria che serviva. Che serviva in questo momento, serviva come il pane. Ed è arrivato, una vittoria secca, convincente. Signori miei, prima di partire, come al solito, vi invito a lasciare un like, se volete. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E ce ne saranno. Mi prendo anche dieci secondi per dirvi di nuovo grazie per l'immenso supporto, sia su Facebook, sia su YouTube, anche sulla pagina Instagram, ovunque, TikTok, ovunque. Siete sempre in tanti a manifestarmi attenzioni e devo dire grazie, lo devo davvero. Per chi ha intenzione di andare a assaggiare, magari, le notizie relative alle parole degli allenatori o comunque qualsiasi argomento valido calcistico, c'è OneFootball. Applicazione che gratuitamente vi offre veramente tutto, tutto quello che riguarda il mondo del calcio e via. Vi aggiorna anche sulla classifica, sul calendario delle squadre interessate. E personalizzabile, quindi neanche invasiva. Tutto ciò, ripeto ancora una volta, gratuitamente, per cui scaricatela e valutate un po' voi. Link in descrizione, ho qui il code per farlo. Vi divido ovviamente il video in capitolo, come sempre, per facilitarvi la visione del video. In base all'argomento che più vi ha derada. Parto con la Roma, appunto. Parto con la Roma. E parto anche dal finale. Perché queste partite, se non le vinci, non le devi perdere. E se le perdi, le perdi ma le devi accettare. Non devi sbarellare. L'espulsione di Zagnolo, terribile. Terribile. E ora, è arrivata l'ora che un ragazzo così importante. Perché Zagnolo è un giocatore che è importante per la Roma. E cazzarola, lo deve essere anche per la Nazionale. Ma se ha questi atteggiamenti, non lo sarà. Quindi, anziché difenderlo, perché spesso e volentieri sento veramente troppa gente a tutela del ragazzo. Ogni volta che lo si attacca, eh ma no, si parte prevenuti. No, se fa una cazzata del genere, dobbiamo dire tutti che ha fatto una cazzata. Con l'espulsione nel finale, compromette anche la prossima partita. Perché mancherà un giocatore come Zagnolo. È un conte averlo, è un conte non averlo. Quei gesti sono da evitare. È arrivata l'ora di crescere e di migliorare. Il miglioramento professionale passa anche da questo. Passa anche da questo. Quindi basta difendere l'indifendibile. Basta. Basta. Onestamente. Basta. E questa Roma credo che abbia anche bisogno di un giocatore come Pellegrini, ovviamente. Quando manca, manca. Ma attenzione, le occasioni della Roma le ha avute. Alla sua maniera, alla sua maniera, magari spesso, volentieri di ripartenza, o da calcio piazzato, dove sono micidiali i giocatori della Roma. Dove in un modo o nell'altro ci arrivano prima. Ci arrivano prima? Sono micidiali? Eppure non le ha sfruttate. Non le ha sfruttate e la paga cara. La paga cara e porta a casa una sconfitta. Una sconfitta contro un Betis che secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo. Il primo tempo del Betis è superiore. Giocata a pallone. Il primo tempo veramente con Canales e compagni. Mi sono piaciuti davvero. Pallo del collettivo, no? Del gioco espresso. Delle triangolazioni, dei dialoghi, del coinvolgimento dell'intera rosa. È una squadra che gioca a calcio. Il Betis è una squadra che gioca a calcio. Complimenti a Pellegrini e alla sua squadra, perché giocano sicuramente a calcio. Ma la Roma è riuscita a passare anche in vantaggio. Sfruttando ovviamente un rigore che c'era sacrosanto e Dybala che ha piazzato l'ennesimo gol, quarto gol consecutivo. Se parliamo di Dybala, devo un secondo sottolineare l'apertura di esterno. Bellissima nel primo tempo. Speriamo che non ve la siete persa, perché vi siete persa una ciliegina, una delizia. E poi, dopo l'1-1, ricorderei quel tiro al volo che è solo il portiere bravo. Non ci ha concesso la gioia di goderna pieno, ma l'ha giocata senza ombra di dubbio trista. Questo sempre per riparire che Dybala è un giocatore differente, per quanto mi riguarda. Ma, ritornando al Betis, ripeto, almeno nel primo portava a casa un pareggio meritanamente, perché aveva costruito belle occasioni, il palo, altre triangolazioni molto interessanti, un tiro di Canales, se sono sbagliato, parato da Rui Patrizio. Tante situazioni importanti. Poi è arrivato un tiro da fuori, bel gol, una Roma troppo schiacciata. La Roma troppo schiacciata. La Roma può venire anche fuori, può e deve venire anche fuori, perché ha le qualità anche per gestire la palla. Specialmente quando, e ancora una volta lo diciamo, c'è una bolgia che ti accompagna, per l'ennesima volta una bolgia incredibile. L'Olimpica è una caldaia rovente, mamma mia, che fa bollire l'acqua e ti scotta, e ti scotta, perlomeno scotta gli avversari. Incredibile. Arriva l'1-1 e poi, ripeto, due occasioni di fila per la Roma che si scuote, che esce fuori, perché la Roma ha le qualità per uscire fuori, ma la Roma ha anche le qualità per comandare la gara, per comandarla. Non c'è bisogno che debba giocare, secondo me, sempre e unicamente di rimessa. Nel secondo tempo, venuto a meno il forcing della squadra spagnola, la Roma ha gestito meglio la gara, è stata perfettamente in controllo e anzi ha avuto le occasioni per affondare e per fare male. Ricordo qualche offensiva sulle fasce, una volta Spinazzoli che salta l'avversario, un altro Zaleschi, Zaleschi che, secondo me, ha fatto una buonissima gara. Ricordo l'occasione di Cristante sul calcio piazzato, come vi dicevo, sul calcio piazzato sono tremendi e non è arrivato il gol. Non è arrivato il gol e poi, peccato, perché arriva quel gol che nel finale era terribilmente, terribilmente immeritato. Ma una giocata... è un gol incredibile dove Spinazzoli viene sovrastato, non riesce nemmeno ad accennare un contrasto, no? Invece viene schiacciato sul calcio dell'avversario, non capisco perché. Veramente non ho capito perché. Questa, al momento, è la classifica con la Roma, che è terza e ultima, e che deve fare meglio, deve fare indubbiamente meglio. E con un Betis che le ha vinte 3, 3 su 3, e la prossima la andranno a giocare lì, in Spagna. Per cui non sarà facile, sarà ancora più difficile rispetto a oggi. Sarà molto più difficile. Voglio vedere le altre partite della Roma. Se ne ha due in casa o due fuori? Mi sa che due fuori? Sì, Betis-Roma, poi Helsinki-Roma. Vabbè, con Helsinki onestamente, anche se fuori casa si può e si deve vincere, però c'è lo scontro diretto, secondo me, quello importante, con il Ludo Goretz in casa. E quella, l'ultima, potrebbe, dovrebbe essere la partita decisiva a questo punto. Anche se dalla Roma io mi posso aspettare anche che vada a vincere in Spagna contro il Betis. Perché, ancora una volta, lo ripeto, hanno le qualità per farlo. Le hanno, le hanno, le hanno, senza ombra di dubbio. Andiamo avanti. La Lazio. Per rimanere in Europa League, poi andiamo alla conversa. La Lazio oggi ha giocato contro lo Sturm Graz, squadra austriaca, seconda in campionato sotto il Salzburg, a due punti, di due lunghezze sotto il Salzburg. Io non conosco il valore effettivo della squadra, ma sono rimasto colpito. Devo dire la verità, sono rimasto colpito, perché ci hanno messo un'intensità, un carattere. Venivano alti sempre a pressare. Spesso e volentieri hanno veramente setto otto nella metà campo della Lazio, con un forcing incredibile. Ci hanno messo a tanta, tanta intensità. Veramente tanta. E hanno avuto tanti, tanti tiri poco concreti, poco precisi. Senza ombra di dubbio, questo va detto. Però, per oggi credo che la Lazio, nonostante il pari, non dico che sia un risultato pessimo. Ecco, il risultato pessimo è quello col Mid-Juland. Quelle sono robe che non possono esistere. Ma oggi la Lazio, secondo me, ha fatto comunque una partita accorta, attenta. Non credo la migliore stagionale. Ripeto, contro un avversario che ha dato tutto. Ha dato tutto. Ha onorato sicuramente la competizione. Si vede quando un avversario mette in campo qualcosa di più del dovuto e del normale. Sembrava la partita della vita per lo Stormgrads. Ma come dicevo, la Lazio ha tenuto botta. Mi ricordo qualche errore di Provedel in costruzione. E lì poteva uscire fuori una frittata. È andata bene, ma ricordo anche che ci sono state delle situazioni dove la Lazio poteva andare a segno. Nel primo tempo, se penso a Luiz Alberto, che è proprio lì, se non sbaglio, Dante, il difensore, che gliela leva dal naso. Dopo una bella giocata, se non sbaglio, il tacco. In quel frangente c'è stato quel bellissimo tacco di Luiz Alberto, immobile, e poi gliela le dà quella triangolazione lì. Oppure il tacco era per Pedro, che fa quella cavalcata sulla sinistra. Adesso non ricordo, francamente. Quando vedi tre partite in contemporanea, cioè la Lazio no, ma poi ci sono subito Roma e Fiorentina, ti perdi nella moltitudine degli episodi. Mi ricordo anche una discesa importante di Pedro. Ma la Lazio che non riesce a sbloccare il risultato. Forse ci si poteva attendere qualcosa in più quando è giunta la superiorità numerica, seppur nel finale, all'ottantesimo. Bravo Zaccagni in quel caso a far espellere l'avversario puntando l'uomo. Perché, ripeto ancora una volta, la Lazio ha giocatori che saltano e che puntano l'uomo. Ed è mancato sicuramente il gol. È mancato sicuramente il gol. C'è stato quel gol annullato a Immobile proprio per una questione di centimetri. E secondo me ne ha avuto un'altra occasione di ottissime Immobile quando ha provato quella specie di rovesciata, no? Che, se non sbaglio, l'arbitro ha dato fuori gioco. Ma non era fuori gioco. Quella era un'altra occasione clamorosa e ci sono state delle situazioni molto, molto, molto interessanti da parte della Lazio. Ma finisce così. Una partita comunque attenta lì dietro, se penso a Ghella. Alla coppia Ghella-Romagnoli. Se non sbaglio, Ghella lo sta facendo giocare quasi unicamente in Europa League. Non voglio dire una cavolata, ma vorrei vederlo anche in campionato. Un giocatore, secondo me, interessante. Ma aspettavo un po' di più da Cancellieri, da sto ragazzo qua. Ma aspettavo qualcosina in più, perché ne ho un buon ricordo al Verona. Ma per il resto, direi bene così, una Lazio che di sicuro si è detto in passato, no? Sarri e la Lazio snobbano l'Europa League. Non mi è sembrato questo, anche per la scelta dei titolari. Praticamente la squadra quasi al completo, quasi al completo, sì. Basta pensare al centrocampo. Milinkovic, Cataldi, che è un altro giocatore che è cresciuto tanto, e Luis Alberto. Poi Milinkovic è stato sostituito, ma non è stata una grande prova oggi quella del serbo. E, ripeto, porta a casa secondo me un pari comunque che non è da buttare. Assolutamente no, visto che arriva in territorio, in territorio, come si dice, territorio nemico, diciamo così. E questa è la classifica al momento. Il Feyenoord comanda, 4 punti, ma in realtà sono tutti e 4. Perché alla fine è Midjylland 4, Lazio 4, Sturm, oh mamma, non riesco mai a dirlo. Grad 4. Colpisce la differenza negativa della Lazio. Soprattutto visti i gol subiti col Midjylland. Ma quello che c'è da dire è che la Lazio giocherà 2 su 3, le giocherà in casa. Quindi, adesso giocherà la prossima in casa con lo Sturmghalts e giocherà in casa anche col Midjylland. Quindi, la Lazio, secondo me, può e deve assolutamente, non solo passare il Gionale, ma può anche puntare ancora a passare come prima. Che è l'obiettivo, e deve essere l'obiettivo. Può farlo e deve farlo. E' mancato un po', secondo me, un po' di velocità negli scambi. Un po' di velocità negli scambi. Ma, ripeto, oggi è un avversario che mi ha colpito per l'intensità e per l'applicazione. Sì, devo essere sincero. Chiudiamo con la Viola. Chiudiamo con la Viola che è al netto di un avversario che non conosco. L'Hertz mi ha detto il telefonista più volte, squadra scozzese, altrimenti non sapevo neanche il campionato in cui mi le tasse, onestamente. Devo essere sincero. Non c'è stata gara. Senza ombra di dubbio non c'è stata gara. La Fiorentina ha aperto le danze, le ha chiuse e ha dominato. Salvo veramente, se non sbaglio, sull'1-0 nel momento di superiorità numerica. O sul 2-0. Non ricordo se l'1-0, ma dopo la superiorità numerica c'è stato solo due situazioni per la squadra avversaria e ricordo un errore di Saponara da evitare, quelle sbandate forse legate alla troppa sicurezza che aveva messo praticamente in porta un giocatore. Per il resto è stata una partita dominata, solo marchiata dalla Fiorentina che colpisce da subito praticamente con il suo marchio di fabbrica. Apertura incredibile perché spesso e volentieri apre sempre da una fascia all'altra e poi dalle fasce al centro per le mezzale. Perché tante mezzale di inserimento, prima Mandragola, poi Buonaventura, tanti giocatori coinvolti ad attaccare sempre l'aria e quando porti tanti uomini in aria in un modo o in un altro crei tanto. E la Fiorentina anche nella partita no ha sempre creato. Anche oggi tre gol ma ne poteva realizzare sei perlomeno, tranquillamente. Ma tranquillamente. E pronti via arriva questo gol, secondo me ben congegnato e il cross di... come si chiama? L'esterno destro, il terzino destro, l'u, l'u... Ma è piaciuto, mi è piaciuto quel passaggio là. Vediamo se lo trovo. Sì, me lo voglio memorizzare tra l'altro. C'ho una memoria da elefante. Un attimo di pazienza. Sto guardando sempre su... Wow, come cazzo si chiama? Vabbè, non riesco a trovarla. Conference League, quante squadre ci giocano in Conference League che non si trovano? Quante squadre ci giocano? Ecco, ho trovato. Voi già lo saprete. Ah, Terzic. Vedete che mi veniva L tipo Lovric, mi veniva invece Terzic, non Lovric. Terzic, Lovric. Non è assolutamente lì. Bell'assist e bravo Mandragona. Ma credo che un giocatore che a me piace tanto e deve trovare la costanza... Un giocatore che mi piace tanto è qua a me. A me qua a me piace tanto. Perché se nella giocata di Grazia fa delle giocate veramente notevoli e che fanno la differenza. Che fanno la differenza. Oggi per esempio è un gol incredibile. Al di là del gesto tecnico e della rovesciata, ma che potenza ragazzi! Un siluro! Raramente ho visto delle rovesciate dove veramente davi così tanta forza al pallone. Un abbordato incredibile. Ma spesso e volentieri salta l'uomo, va in velocità. Anche stazza. Quindi se impara ad usarlo alla perfezione, al proprio fisico, a piantare i piedi, è un giocatore che può essere anche completo qua a me. Il problema è che alcune volte si spegne, altre si accende e quando lo fa, secondo me diventa un giocatore fondamentale. Può esserlo davvero per la Fiorentina e spero che l'italiano riesca a farlo rendere al meglio. Poi, tanti giocatori rivali della Fiorentina, ricordiamo che dalla panchina può mettere Nico González, Iconé, quindi non è facile. Però questo qua a me è un giocatore che a me esalta, a me esalta, incanta. Ed è un giocatore di cui mi aspettavo di più e di cui oggi, secondo me, ha fatto una buona lana, Jovic. Jovic, mi è piaciuto un'apertura che ha fatto nel primo tempo, un filtrante, spero che l'abbiate notato, un filtrante incredibile, dove se non sbaglio mette in porta o quasi Saponara. Giocatore interessante perché può fare sia quel lavoro di raccordo e può essere anche Cinico sottoporta. Ha fatto gol, tap-in praticamente, sempre merito, è bravo anche qua a me. Ma Jovic può e deve fare veramente tante prestazioni mostruose. Perché può farle? Perché è l'attaccante che deve mettere la Fiorentina nelle condizioni di non dover rincorrere per forza e di trovare un gol che non arriva, non arriva, non arriva. Se inizia a sbloccarle le partite, la Fiorentina, secondo me, gioca con maggior grazia e con maggior tranquillità. Anche se poi va detta una squadra che è anche sul 2-0 oggi, superiorità numerica, non è che sta lì a gestire la gara, si mette con un palleggio sterile. No, non è nelle corde della Viola. Quando può, cerca sempre di andare, no? Cerca sempre di attaccare e di portare uomini nell'area avversaria. C'era bisogno, c'era tanto bisogno di questa vittoria, vittoria che è arrivata. E bisogna continuare così. Vediamo un attimo la classifica anche in questo caso. 7 punti l'Istanbul-Basak Sehir, poi c'è appunto la Viola. 4 punti, 3, Lerz e Vigas. Mi sento di dire che anche in questo caso la Fiorentina, oltre a passare il turno, deve provare a vincerlo. Poi deve provarlo. Poi deve provarlo. Vediamo quanto giocherà con l'Istanbul adesso, non ricordo se hanno giocato in caso o meno la prima. Calendario, Fiorentina. Vediamo un attimino se ne ha due in caso o meno. Deve giocare in casa con l'Istanbul, e onestamente questa è una gara dove non ci deve essere discussione. E poi giocherà in casa con l'Istanbul-Basak Sehir. Questa è la partita che non mi voglio perdere. Senza ombra di dubbio, vi dico già che se giocherà il 27 ottobre alle 18.45. Questa è una partita di quelle che non mi voglio perdere. E poi c'è il Rikas che andrà fuori casa. Quindi ne ha due in casa. Cara Viola, devi portare a casa il primo posto. Vedi come ti devi mettere, vedi come devi fare. Si può fare. Si può fare. Questo mi sento di dire. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likecate. E se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi. Buonanotte. 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 Buonanotte.